Nel centro storico e per le vie del Borgo Farnese, sabato 16 luglio, sarà allestita una mostra mercato delle migliori aziende calzaturiere marchigiane dalle ore 17 fino alla mezzanotte. Questa volta di espositori ne saranno 28, per cui abbiamo la piazza completamente esaurita, sono tutti produttori, questo ci teniamo a dirlo, non sono rivenditori ma producono loro stessi la calzatura. Quindi i prezzi sono eccezionali e anche il designer è all'avanguardia. Questa volta sotto le stelle il mercatino, dalle 5 del pomeriggio fino a mezzanotte. Un evento dedicato alle calzature che torna con la seconda edizione dopo soli due mesi, perché? Torna dopo due mesi perché la prima edizione ha avuto un grosso successo, tanto che c'erano 15 espositori e hanno fatto praticamente man basso di tutte le scarpe di coloro che sono intervenuti. Questa volta ci saranno 27 espositori e quindi un plauso a Campi Domani che organizza questo evento a cui noi diamo il patrocinio non solo ma anche il supporto logistico è anche un contributo per far sì che avvenga nel migliore dei modi e anche un modo per fare una specie di gemellaggio con Borto Sant'Elpidio che infatti la volta scorsa è venuto anche il sindaco. Speriamo che dalla costa arrivino molti turisti, così possono associare la mostra mercato, vedere la mostra mercato, visitare Campi e la Scala Santa quindi abbinare cultura anche alla cultura e se vogliono arrivare a tre chilometri alla Sagra del Tartufo che si svolge appunto in questa settimana.